Sono Piero Lanza, sono il titolare della fattoria Poggerino, Radda in Chianti. È una piccola azienda, quindi il mio ruolo è un po' fare tutto. Quindi lavoro in vigna, lavoro in cantina, vado in giro per il mondo a vendere il vino, sono agronomenologo. Ho imparato in questo lavoro la modestia. Bisogna essere in questo lavoro ogni giorno, quando ti svegli, devi affrontarlo quasi come se fosse il primo giorno del lavoro. Nel senso che, ovviamente, poi negli anni impari, acquisisci esperienze e sicurezza nelle cose che fai, però noi abbiamo una grande difficoltà, che è anche una parte molto bella del nostro lavoro, che lavoriamo con la natura e quella noi la possiamo controllare. Quindi bisogna sempre essere estremamente reattivi e capaci di fare le cose giuste al momento giusto e non dare niente per scontato. Quindi in questo senso ci vuole molta modestia. Grazie. 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 Grazie.